Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati all'interno delle pagelle di Inter-Juventus 4-4. Intanto ho una piccola domanda per voi. Quella che abbiamo visto ieri è stato l'incontro più bello, il derby d'Italia più bello giocato tra queste due squadre? A memoria ovviamente io ne ho altri in cui la Juventus vince, mi viene in mente quello del 3-2 di Guain, ovviamente nel mio cuore c'è quello davanti. Però vi devo dire che dal punto di vista dell'intrattenimento, quello di ieri forse è oggettivamente l'Inter-Juventus o comunque la sfida tra Inter e Juventus più bella in assoluto. Voglio saper la vostra, io ieri notte ho pubblicato anche la live reaction, ho visto che i video stanno andando molto bene, tanto che io sto registrando appunto di notte e quindi ho monitorato in tempo reale quelli che sono l'andamento delle visualizzazioni, dei mi piace, dei commenti. Siete tutti belli carichi e galvanizzati, peccato soltanto per gli errori abbastanza banali che la Juventus ha concesso, soprattutto nel primo tempo secondo me. Tiago Motta, voto 7. Avevo paura della formazione iniziale, per fortuna Tiago Motta inserisce Cabal al posto di Savona, io credo che oggi Cabal meriti di giocare titolare al 100%, quella di Ildis l'avevo letta come una mossa di Tiago Motta per cercare di utilizzare l'ampiezza di Wehae con Seisao e avere un cambio importante e impattante come Ildis, beh, direi che ha impattato abbastanza bene sulla partita. L'unica cosa che non mi convinceva era Danilo titolare al posto di Gatti. Abbiamo già discusso di questa cosa. Io non credo che sia stato qualcosa dal punto di vista fisico, non credo che sia stata una scelta dal punto di vista fisico. Penso che sia stata una scelta tecnica. Può essere dettata da motivi differenti, da motivi legati a qualcosa che può essere successo, non lo so, non ho nemmeno voglia di stare qui a parlarne. Quella è l'unica mossa che secondo me è stata sbagliata da Tiago Motta all'interno della partita, quindi gestione della partita, lettura della partita, scelta dai titolari e sostituzioni. Per il resto la Juventus ha fatto una gran partita. Secondo me Tiago Motta è stato molto bravo a dare un giro di chiave a questa Juve che è andata più in verticale rispetto al solito. È stata meno sul palleggio orizzontale sterile. È stata una Juventus che ha cercato in pochi passaggi di arrivare in porta ed è stata una Juventus che finalmente ha tolto quelli che potevano essere i blocchi, i limiti alla creazione di pallegol e alla fase offensiva. Mi è piaciuta la Juve, peccato per quegli orrori difensivi che sono andati a rovinare uno score che fino adesso era veramente buono per quanto riguarda la fase di non possesso palla. Di Gregorio, 6,5. Sul primo rigore, vabbè, completamente spiazzato. Il secondo cassa lo tocca. Lo tocca ma non riesce a dare abbastanza forza per buttare la palla fuori dalla porta. E poi c'è quel momento sul 4-2 nel secondo tempo in cui l'Inter è completamente padrona del campo in cui Di Gregorio ci salva. Prima su Di Marco, quel missile terra aerea di Di Marco da lontanissimo su punizioni di seconda. Ma soprattutto quel tiro di Barella dal limite dell'area. Barella rimpalla su 28 giocatori e alla fine Di Gregorio alza sopra la traversa. Quella è la parata che svolta la partita. Perché poi altre parate non ce ne saranno. C'è un pericolosissimo colpo di testa di Lautaro Martinez ma che non viene parato da Di Gregorio perché finisce fuori, si impegni sul fondo. Ma quella parata lì sul tiro di Barella rimpallato è quello che tiene in piedi la Juventus. Viva la Juventus. Quindi per me il voto di Gregorio è positivo. È un 6,5. Perché quella parata è talmente importante che permette alla Juventus di non mollare, di non sciogliersi completamente di darsi ancora una speranza, una piccola speranza. Quella speranza si chiama Kennan e viene dalla Turchia. Andrea Cambiaso, voto 6,5. Devo dirvi la verità, mi è piaciuto molto Cambiaso. È stato davvero presente all'interno di questa partita e soprattutto mi è piaciuto in coppia con Cossé Sauli sulla destra. Tutte le volte che Cambiaso andava a stringere avevamo con Cossé Sao largo e Cambiaso lo serviva sempre. Ragazzi, abbiamo trovato la nostra fascia destra titolare. Devono essere questi due giocatori. E vi spiego il perché. Perché ovviamente Cambiaso è un giocatore che adora entrare dentro il campo e come sempre quando diciamo questa cosa quando un giocatore entra dentro il campo lascia l'ampiezza a un altro giocatore. Cambiaso e con Cossé Sao è la fascia destra titolare della Juventus. Stop. Perché funziona troppo bene. Perché è il movimento più naturale possibile. E quante volte abbiamo visto questa soluzione di Cambiaso che andava lì, si accentrava, andava vicino alla tre quarti campo e poi scaricava su con Cossé Sao e lo faceva andare al dribbling? Un milione. Questa deve essere la fascia destra titolare. Stop. Sono convinto di quello che vi sto dicendo. Eh. Possiamo dire la peggior partita di Danilo con la maglia della Juventus? Io credo di sì. Se già con lo Stoccarda avevamo assistito a un disastro, oggi abbiamo la conferma del disastro. Danilo oggi non è all'altezza di questa Juve. Danilo oggi non è atleticamente e mentalmente pronto per giocare in questa Juve. Tiago Motta l'ha giustificata con Danilo è meglio sullo sviluppo gioco, quindi ho scelto lui bugia. Bugia bianca. Bugia necessaria da parte di Tiago Motta. Danilo non sta bene. Danilo è un giocatore che in questo momento non merita di giocare e che spero di non vedere per un po'. Perché purtroppo anche oggi il rigore che va a provocare è un rigore troppo stupido. Perché è esattamente lo stesso principio dell'altro giorno. E la cosa incredibile è che Danilo arrivi con colpevole ritardo in maniera talmente naturale che poi vada sempre a dire no guarda io non ho fatto niente. C'è neanche l'accettazione dell'errore che era un errore davvero troppo evidente. Oggi Danilo non può giocare in a Juve. Stop. Che non significa che da qui a fine stagione non possa cambiare questa cosa ma oggi è così e dovrà faticare il doppio sono il triplo in allenamento per cercare di guadagnare una forma fisica e mentale accettabile perché oggi veramente non ci siamo ma neanche i vicini. Calulu è incredibile vedere una partita della Juve dove probabilmente i due peggiori in campo sono i due difensori centrali ma oggi uno Danilo uno Calulu un rigore a testa procurato un rigore che va a battere sempre Zielinski e che va a insaccare tutte e due le volte alle spalle di Gregorio Calulu ha fatto forse la più grande cazzata da quando veste la maglia della Juventus con quel rigore su Dunfris si era completamente dimenticato dell'esistenza del giocatore da marcare alle sue spalle che ovviamente non può smaterializzarsi Calulu lo prende in pieno secondo rigore per l'Inter brutta brutta azione per Calulu che ovviamente paga con un voto relativamente basso Cabal voto 6 e mezzo perché è vero che quando si difende quando c'è una linea a 4 poi tutti devono essere più o meno colpevoli sui gol però vi dico la verità Cambiasi e Cabal mi sono piaciuti molto anche se sono difensori anche se la Juventus ha preso 4 gol perché sono stati intraprendenti quella palla che dà Cabal a McKennie un cioccolatino quella palla che va a prendere Cabal sul passaggio di Locatelli per il 4 a 4 è meravigliosa quindi Cabal e Cambiaso che sono due terzini che spingono e non poco possono essere veramente l'energia in più di questa squadra sono giocatori che vanno anche senza palla sono giocatori che vanno in giro per il campo sono giocatori che non sanno solo statici lì dietro quindi molto molto bene un giocatore come Cabal dopo la partita con la Lazio dove mi era piaciuto tanto un'ennesima conferma di un giocatore che oggi merita di essere titolare abbiamo già abbastanza decretato quella che è la retroguardia se devo pensare ai titolari Cabal a sinistra Cambiaso a destra Calulu e Gatti al centro sono molto più indecisi sulla porta dove Perini e Di Gregorio sono intercambiabili secondo me in questo momento ma la linea 4 credo che nella sua miglior forma nella sua miglior versione sia assolutamente questa e Cabal ha fatto una bella partita Fagioli 5 e mezzo abbastanza fuori dal gioco in realtà abbastanza invisibile Fagioli tant'è che viene sostituito quasi subito uno dei primi cambi che va a fare Tiago Motta credo anche giustamente Locatelli voto 6 perché non fa una bella partita Locatelli sono convinto di quello che vi dico in generale ma nel momento in cui esce Danilo e Locatelli si mette con la fascia al braccio mi sembra letteralmente trasformato un giocatore che va a lottare su ogni pallone un giocatore che va a aiutare ancora di più la squadra dal punto di vista difensivo e poi ripeto c'è quella palla che dà Cabal sull'azione del 4-4 che è troppo bella è troppo importante e sicuramente anche se per qualcuno potrebbe non aver fatto una buona partita Locatelli quella palla lì è una palla che pesa così tanto che va a portare la Juventus da una sconfitta a un pareggio con una doppia rimonta contro l'Inter in trasferta a San Siro con la Juve che va a schierare la formazione più giovane nella storia del derby d'Italia con 25 anni rotti con l'Inter che è la formazione più esperta d'Italia la Juventus che è la seconda più giovane dopo il Parma beh ragazzi quella palla lì di Locatelli gli fa valere il 6 perché per me dal punto di vista difensivo ha fatto sempre la sua solita partita dal punto di vista dell'impostazione è andato abbastanza male ma come tutto il centrocampo della Juventus secondo me nei confronti di quello dell'Inter ma quella palla lì quella palla lì è una giocata che secondo me poteva fargli avere anche 6 e mezzo vi dico la verità però sono stato basso e ho dato 6 perché oggettivamente per il resto della partita non è stato un grandissimo Locatelli McKennie 6 e mezzo secondo me invece McKennie è stato il migliore dei centrocampisti della Juve non solo per l'assist che fa Vlaovic ma perché quella giocata quel taglio quell'inserimento l'ha provato altre due o tre volte la retroguardia dell'Inter aveva dato particolarmente fastidio poi anche lui si gode qualche minuto di riposo sostituito dopo una partita in cui McKennie ha fatto il McKennie e cioè quel centrocampista super generoso che abbiamo imparato a conoscere in questi anni a Torino con 6 e sa o 7 e mezzo non hanno mai preso devono prendergli il numero di targa perché devono fargli arrivare una multa per eccesso di velocità non ho idea di come abbia fatto a uccellare tutta la retroguardia dell'Inter in occasione del gol del 2-1 di Weah Weah si becca a 6 e mezzo ve lo dico subito perché ha fatto il gol per il resto è stato poco presente ma il gol è di questo signore qui che è andato a sgasare per 90 minuti e su giù avanti indietro destra sinistra cioè è una bestia è una bestia io onestamente fatico a comprendere come questo giocatore possa essere rimasto fuori anche dalle gerarchie magari nei momenti in cui era disponibile era disponibile di tutti poi certo ha passato anche quel periodo in cui si è infortunato c'è stata quella mini lesione muscolare meno male che è tornato con questo impatto è tornato veramente ad alto livello ma con senso è un titolare oggi un titolare in questa Juve quando tornerà Nico Gonzalez dovrà cercare di correre più degli altri per riuscire a togliergli il posto oggi merita assolutamente di giocare titolare ed è uno dei giocatori migliori in assoluto della Juve in questa via di stagione davvero complimenti Sisco perché ha fatto una partita meravigliosa UEA abbiamo già discusso Vrovic foto 7 quando l'attaccante della Juve ha una sola palla gol e la butta dentro e per il resto fa una partita di sacrificio voto 7 non glielo aveva nessuno che ha fatto quello che deve fare un attaccante gol all'unica occasione e per il resto al servizio della squadra Bravo Dusan che tra l'altro viene sostituito in maniera anche abbastanza imprevedibile per quanto mi riguarda Natiago Motta nel finale dove Bangula va a fare il falso 9 Savona voto 6 entra poco da segnalare in realtà voto quanto più politico che altro per il minutaggio disputato Kenanildiz invece no Kenanildiz invece merita il voto 9 in pagella perdonatemi ma il Diz ha fatto un ingresso un impatto 30 minuti a San Siro la scala del calcio con la Juve che perde di 2 entra lui 2 ripartenze 2 tiri 2 gol 2 gol col piede debole raccontatelo voi il Diz perché io non ormai ho speso le parole già l'anno scorso io già l'anno scorso avevo già speso troppe parole per il Diz perché io sono profondamente innamorato di questo calciatore che secondo me ha dovuto mandare giù un po' troppa merda nelle ultime settimane perché è giusto dire è il ruolo lì sta incidendo poco eccetera eccetera ma la gente qua ha messo in dubbio il fatto che questo sia un giocatore forte e non parlo di quelli che possano venire a dire ho letto dei commenti di ragazzi che dicono ma non è che l'abbiamo sopravvalutato quelli sono dubbi leciti ma la gente che veramente lo paragonava al più scarso degli scarsi che diceva che era un giocatore a serie B e robe del genere ha una minima idea di quello che è il livello di questo calciatore se la risposta è no forse quei 28 minuti più di recupero a San Siro sono da recuperare sono da andarsi a vedere e soprattutto capire perché Ildis ha ribaltato completamente la partita con due giocate della madonna bravissimo Kennan voto 6 e mezzo a Gatti ha giocato pochissimi minuti ha giocato veramente pochi minuti Gatti tant'è che ho visto tanti pagellisti dargli senza voto io ho voluto dargli 6 e mezzo perché ha battagliato in una maniera incredibile quante palle alte sono arrivate poi nel secondo tempo negli ultimi minuti di gioco tantissime Gatti ha andato a prenderle tutte con una cattiveria meravigliosa dal punto di vista agonistico me lo aspettavo anche con lo Stoccarda nel momento in cui siamo rimasti in difficoltà e c'era bisogno di un giocatore come lui per tenere in piedi la baracca non è arrivata la sua sostituzione ed è per questo che vi dico non so se sia stata soltanto una scelta tecnica di Danilo che imposta da dietro e dubito che sia soltanto una scelta legata alle condizioni fisiche perché oggi è entrato molto molto bene spero che sia finito questo periodo di isolamento per Federico Gatti perché la Juventus ha assolutamente bisogno di lui non credo che sia un caso che senza di lui e senza Bremer che sono i due titolari sulla carta ma Bremer purtroppo ce l'abbiamo fuori sia arrivata la prima sconfitta della stagione e la prima goleada in Serie A non sono assolutamente coincidenze non dimentichiamoci queste parole per il resto vi dico la verità gli altri giocatori come Bangula e Kefren Turam si beccano senza voto su Bangula permettetemi di dire una cosa però perché Tiago Motta decide di metterlo come falso nove Bangula credo che non tocchi mai il pallone o comunque ne tocchi un paio però quanto è andato a rompere i coglioni quanto si è sbattuto in prima pressione per impedire a Sommer e all'altro guardia dell'Inter di iniziare l'azione da dietro palla bassa tantissimo e quindi è un senza voto per ovvie ragioni perché veramente non ci sono stati presupposti per dargli una valutazione ma la mia valutazione personale che non è quella delle pagelle ma proprio l'impatto e l'impegno dico bravo Sam perché ti sei veramente messo in gioco messo in evidenza dal punto di vista della fase di non possesso palla che è la prima cosa che deve fare un buon attaccante per far funzionare la squadra e questi erano i miei voti queste erano le mie opinioni sono curioso di sapere la vostra invece qui sotto nei commenti come al solito iniziamo una bella discussione un bel dibattito scrivetevi le mostre pagelle e noi ci vediamo con un altro video che arriva molto presto ciao ragazzi ciao